Si prosegue la stessa strada che quella che abbiamo intrapreso, di crescere, di lavorare forte, di essere attenti. Penso che abbiamo migliorato tanto nel girone di ritorno. Non abbiamo la possibilità di lottare i play-off, proprio perché il girone è andata ci abbiamo fatto fatica, soprattutto all'inizio, adesso puntiamo a migliorare ancora, a fare esperienza con i giocatori più giovani che hanno bisogno e arrivare nella miglior forma possibile al play-off della Challenge. Sicuramente ci fa vedere non solo la vittoria della Tina, anche la vittoria di Padova, anche la partita con Verona in casa, che comunque è stata una partita molto dura per tutte e due le squadre. Ci fa vedere che quando noi premiamo la nostra palavolo siamo all'altezza e possiamo competere con tutti, quindi siamo fiduciosi e sappiamo che dobbiamo fare una buona partita, ma sappiamo anche che se la facciamo avremo delle nostre chance. Io penso che sia meglio arrivare a decimi, nel senso che uno non deve fare questi tipi di calcoli, dobbiamo giocare il meglio che possiamo, vincere più che possiamo, quindi più in alto arriviamo meglio e dopo se arriviamo a decimi avremo più possibilità di lavorare in palestra, che a questa squadra le ha fatto sempre bene lavorare in palestra, concentrarsi su evolgere anche tecnicamente i giocatori ci fa bene, quindi fare un periodo di nuovo di allenamenti con qualche amichevole può darci ancora un ulteriore salto di qualità.